Ribadisco perché siamo qua. Noi siamo qua perché stasera la giunta del Senato deve decidere per la decadenza di un pregiudicato, il senatore Berlusconi, pagato con i soldi di tutti noi contribuenti. Noi chiediamo che non si rallenti la sua decadenza ma che venga rispettata la legge, la legge Severino. Mentre eravamo qua abbiamo saputo che lo stesso pregiudicato del quale parlavamo, cioè Berlusconi, ha mandato in onda il suo videomessaggio. E noi che abbiamo raccolto più di 125.000 firme per chiedere alla RAI, servizio pubblico, di non mandare in onda videomessaggi di pregiudicati. Perché la legge parla chiaro, si mandano in onda i videomessaggi degli carichi istituzionali, non dei carichi vendenti. Quindi si va a vedere la carica istituzionale o la carica di vendenti di chi fa il videomessaggio. Noi crediamo che sia assolutamente improponibile e anche fuori legge perché è un uso privatistico di un bene pubblico e domani noi andremo al Tribunale di Roma per denunciare, per peculato, chi eventualmente ha mandato in onda integralmente il videomessaggio. Chiediamo ai magistrati di fare luce su questa cosa qua.